Attesa per la tre giorni a Molfetta dell'evento culturale Conversazioni dal mare, salotto a cielo aperto organizzato dall'associazione Artemia e giunto alla quinta edizione. Nove gli eventi che cadenzieranno le giornate all'insegna di momenti di confronto, ascolto, riflessione e conversazione. Si parte l'8 luglio nello splendido scenario di Corso Dante a Molfetta a due passi dalla meravigliosa chiesa di Santa Maria Consolatrice. Ospiti, decezioni, argomenti di attualità, cronaca giudiziaria, manche sport e politica si alterneranno durante la tre giorni. Attenere a battesimo la Kermess culturale il dialogo tra Suntela Messina, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per l'Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale e Domenico Favuzzi, presidente e amministratore delegato di Ex Privia. Interessanti momenti a seguire tra storia e cultura. Il 9 luglio tra gli altri sarà la volta di Veronica Briganti, inviata di chi l'ha visto a confronto con Alessia De Pascale. A parlare di sport in serata, Iuri Chechi, pluricampione di ginnastica, pronto a dialogare con Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.P.A., a moderare il confronto il direttore di Teleregione Salvatore Petrarolo. Interessanti gli appuntamenti del 10 luglio, quando diverse saranno le fatiche letterarie che verranno presentate e saggiate. Un evento a Molfetta di grande richiamo, in grado di ospitare personalità di altro profilo per riflettere, esplorare e confrontarsi.